Per partecipare al casting di Tony Clifton Circus dovete girare un video. Nel video dovete impersonare una guardia del corpo, un bodyguard, giacca scura, camicia, occhiali da sole e a ritmo di musica trasformarvi attraverso un sensuale spogliarello in una affascinante e meravigliosa ballerina, velina, cubista insomma. Il o la protagonista del miglior video verrà scelto o scelta da noi per far parte del nostro nuovo spettacolo, La morte di Babbo Natale. Tutte le istruzioni per partecipare al casting di Tony Clifton Circus le trovate su www.tonycliftoncircus.com